Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale continuata, attentata e consumata nei confronti della compagna. Queste le accuse per un 43enne di Omenia, pregiudicato e volto noto alle forze dell'ordine, che è stato allontanato dalla casa dove si sono verificati i fatti. Per lui il divieto di avvicinamento a meno di 15 metri alla donna e ai luoghi frequentati da lei e dai figli. Questi ultimi non sono stati coinvolti nella vicenda. Le indagini sono state eseguite dagli uomini del commissariato di Omenia, diretti dal vicequestore Mauro Patera, dopo che la signora si era recata nel mese di luglio presso il commissariato cittadino per sporgere denuncia a querela. Ha presentato agli agenti anche alcuni riferiti medici. Da qui è partita l'attività di indagine dei poliziotti, coordinata dal PM Nicola Mezzina. Dopo una serie di riscontri probatori, l'emissione del provvedimento a carico del pregiudicato da parte del GIP del Tribunale di Verbania, provvedimento notificato dagli uomini del commissariato megnese che ora monitoreranno anche sul rispetto di quanto prescritto. Tutti i fatti si sono svolti in città tra il dicembre 2017 e il luglio 2018. L'uomo che non aveva una sua dimora era stato ospitato in buona fede dalla sua compagna, ripagandola però con minacce, rapporti sessuali non consenzienti, atti di violenza. Chiudeva la porta d'ingresso di casa con un lucchetto per non consentirle di rientrare. Il problema dei maltrattamenti in famiglia resta purtroppo di estrema attualità. Il vicequestore Patera ricorda l'importanza di denunciare tempestivamente questi episodi. Ricorda che la legge offre diversi strumenti a protezione delle vittime di violenza.